Come sta? Un pompaio. Che cosa è successo esattamente? Ma quando sono uscita lei stava picchiando e urlando. Forse i bambini l'hanno preso. Sì. E loro picchiavano lei? No, a quanto... Beh, qualcuno l'ha fatto, il suo corpo è pieno di... E qui, Silvia. Sì, è di là. Silvia! Vieni, andiamo a casa. Signor Webb. Ho fretta, dottore. Ma non volete sapere? Ho già saputo. Si è arrabbiata con dei ragazzini. Non c'è niente di strano. Però c'è qualcosa di strano nei lividi che ha sul corpo. Lei cosa vi ha detto? Niente, non mi ha detto una parola. Beh, ecco, è caduta. È caduta dalle scale del... Ma una caduta non... Non può aver causato quelle contusioni. Non mi credete? No, non è questo. Vorrei solo... Allora non c'è altro da dire. Vieni, Silvia. Avete visto? Carrie si è spaventata. Povera Silvia. Vedrai che si riprende... Io farò in modo che non la prendano in giro o cose del genere. È una buona idea. Già. Ora è meglio che vai a letto. Hai bisogno di dormire.